Un pregiudicato 27enne di Schio è stato arrestato dai carabinieri e lui il rapinatore che nel settembre del 2017 aveva aggredito e derubato una pensionata di 73 anni mentre passeggiava a lungo via a Rovereto. L'uomo con il volto travisato aveva strappato la borsetta all'anziana signora che nel tentativo di resistere era finita a terra procurandosi una frattura alla clavicola e ad una costola con una prognosi di 40 giorni. Un grave danno fisico e psicologico per un bottino di un cellulare di 50 euro in contanti. In quella occasione il pregiudicato era riuscito a dileguarsi in un primo tempo ma successivamente era stato rintracciato dai militari della radiomobile. Ora è stato accompagnato alla casa circondariale di Vicenza dove sconterà una pena di due anni emesse dal tribunale per rapina aggravata e lesioni.